Ciao ragazzi, fischi in 360. Ciao ragazzi, Nicola e Matteo. Dove siamo stamani Nicola? Siamo alle vecchie ghiacciaie e come peschiamo? Peschiamo, io con la fissa perché la bolognese mi si è staccato il cimino come ho già spiegato, o anzi no come spiegherò, come sto spiegando ora. Mi si è staccato il cimino così da nulla, puff, proprio così. Vabbè succede a tutti più o meno. E stavo montando la fissa, sto montando la fissa per pescare a carpe. Matteo a bolognese. Bolognese fissa, cioè intercambio un po', faremo un paio d'ore con la bolognese e un paio d'ore con la fissa. Sei tranquillo? Però sono tranquillo, un po' spavato per il cimino che si è rotto così da nulla, però sono tranquillo. E' una bella giornata, sta da bere. Il lago è tutto nostro e ci vediamo con le catture. Ciao ragazzi. Se no, se c'avevi l'asola, ci facevi un nodo con un altro filo, lo legavi qui il filo e allungavi la lenza di lì. Però poi non ce la facevi via come un calzo del galleggiante, no no. Porca puttana! Cazzo! Eh, Nick! Eh! Eh, ma che poi ci perdo la canna, però va bene. Anche a poi ci perdo la canna, però va bene. E che è più abituato a chiappa a questi pesci? Oh, non è nemmeno tanto grossa. Il cimino della Bolognese non so come. Anche intanto prendo. Con la bordo. Con la bordo. Ah, non è nemmeno grossa, è bello quello. No. No! Eh, non l'ho presa in bocca. Non mi chiede come, eh. Sa che l'ho presa sotto la pancia. Comunque c'ho il 18, posso tirarla. Sì, sì, c'ho tutto, c'ho tutto. E l'altro abbiamo uno così, no. Aspetta, eh. L'altro, ragazzi, abbiamo anche... Non abbiamo il tappetino, Nicola. Non mi chiede come un'altra pancia per... Eh, no, Matteo, così via. Aspetta, 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 vai, vai, vai. Sull'erba, eh, Nicola? Sull'erba, sull'erba non ti fa male. Comunque il guadino se se ne chiappa una grossa, Nic. Eh io questo... C'è eeeh Questi sono amici, coca puttana da... Ti appasso il dito cazzo Piano Nick, Piano Nick, Piano Nick, Piano C'è il cemento C'è, bucati il dito C'è vaffanculo Ti appassiato da parte a parte Guardi si fa del danno Te lo dico io Alla sta buona Sta Sta buona Che sta buona Matteo Si Aiuto eh Ma danni il gumbino come lavora Piccinissima Ragazzi piccinissima Si si Sono abituato al muinello Stavo bene Stavo bene Stavo bene 20 grammi eeeh valeva Si è sopra mezzo chilo Quindi un punto No due punti Due punti sicuro? Controlla eh Se la tua legge 4 punti Dai Si Pocca maiola Nicola Mamma mia ragazzi Che cos'è? Lo peso? Che roba è? Eh ora te lo dico Ma poi vuol dire che è un persico Un persico rana Ma che deve essere un persico? Non lo so Non lo so Non so che pesce è Allora Ragazzi A voi la vostra Diteci che pesce è E' un cucciolo di pezzo Oh che cazzo è Nic? Ha mangiato in caduta Ma che grosso dai Ma da come piegava Mi sembrava un coso Sembrava un treno sembrava Arriverà al chilo Anche a guardinalla ti devi fare tempo Perché io qui mi sento Non mi sento indicappato di più Chi ci vede dice che si sono scemi Nic sul coso eh Per favore Ma sull'erba Sull'erba Allora inquadriamoci la carpa E la carpettina Angola che bene Vai Questa è un chilo e sette Vai Devi alzarmela un filino Tesiamo Vedrai che su mezzo chilo c'è questa E lei però le fa il più 900 995 Fai un chilo Fai 8 vetti Allora Questa è bella Questa è bella ragazzi Questa è bella Questa è bella Questa è bella Questa è iniziata Questa è stata Questa è Questa è tutta G Transzolare Questa è tutta Questa è unKN Questa è sussoletta c'è l'erba eh ragazzi un chilo di 10 vabbè un chilo di 8 un chilo di 8 più 2 ragazzi io no no forse questo è un po' più grosso ma dai bocca un chilo e 9 un chilo e 7 altri due punti porca puttana ah vai oh chiudo ma che è trota no come fai ad essere una trota no è una trota davvero no vabbè no che ti devo dire no vabbè c'è io Matteo 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 la casa no 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 che cazzo che cazzo è così hai visto il video di quello cinese anche te click doppio doppio hai visto il video di quello un pezzo un punto la carta